Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video Avon Oggi presento il catalogo casa, catalogo valido dalla campagna 18, quindi 13 marzo fino alla campagna 3, 4 giugno 2020 Eccoci qua, questo è il catalogo casa Si parte da Questa è primavera, eh, catalogo primavera Partiamo a vedere qualcosa Allora, qui vediamo completi letti Vediamo un completo letto Sakura Che mi fa venire a mente qualcosa Che era un cartone animato Non so se l'avete mai visto Pesca la tua carta Sakura Che poi non mi ricordo nemmeno cosa sia C'è tra puntini, una piazza e mezzo La matrimoniale, eccolo qua Questa è Sakura Viene da Giappone, infatti ci sono tutti i cosini giapponesi Si vede, eh, che giapponese Bello, mi piace I prezzi sono questi 85 per il completo letto matrimoniale Il completo letto da una piazza e mezzo 75 Tutto made in Italy A 130 tra puntino E tra puntino da una piazza e mezzo 110, eccoci l'altra parte E ok Penso si possa andare avanti Qui c'è scritto Cuscini decorativi in vendita A pagina 5 Questo è invece un completo matrimoniale Con copriletto E là il nome è Shabby vintage Delicato design Non so se lo leggete In stile vintage Il rosa cipria C'è lenzuolo sopra Il lenzuolo sotto Con angoli E le federe Due Se no c'è il completo letto Questo viene a 130 euro Se no completo una piazza e mezza Con una fede la sola Però mi sa Mi sa di sì E poi 115 E poi 7 di due cuscini Eccoli qua I 7 55 euro E si vede che è qui Ci sono anche le mele Che non sono dotate In dotazione Del letto Questi sono i soliti cuscini Che Mi piacciono Andiamo avanti Molto delicati E questo E sempre 100% Cotone Made in Italy Completo letto Matrimoniale Peonia 86 euro Il trapontino 120 Non so se avete visto Vi ricordo che se vi piace il video Di mettere like E poi attivare le notifiche Almeno non perdete mai video In questi tempi Visto che io resto a casa Bisogna stare tutti a casa Io farò Tanti video Come vedete Chi l'ha Attivate le notifiche Gli sarà arrivato un sacco di video Perché ultimamente Anche oggi Anche oggi ne ho caricati tanti 100% cotone made in Italy Completo letto matrimoniale Impressionismo 85 euro Che poi c'è scritto anche Che va lavato a 40 gradi C'è una mani coordinata in vendita A pagina 13 Non so se si guarda Se si riesce a vedere E' molto carino Come motivo No? Che ne dite? Semplice Eccoci Questo Questo è più triste Secondo me Completo letto matrimoniale Daddy Daily Scusate È un grigio chiare Grigio scuro A me non piace Effettivamente tanto Comunque Insieme al cuscino flower Vediamo un po' Grigio chiaro da un lato E' grigio scuro Dall'altra parte Meglio chiaro Proprio se devo scegliere E poi andiamo avanti Tappeto da bagno jacquard Lavabile in lavatrice A 40 gradi Ecco il tappetino 22 e 22 7 di 3 Asciugamani jacquard 34 euro Poi ci sono 7 di asciugamani Questi Scusatemi Di Organic 19 euro Il set E 7 di asciugamani cipria Organic E questa è cipria Presumata Perché Da colore Uno Presumato Poi Sempre made in italy 100% Asciugamano da bagno Bebe fantasia E Completo lettino Sempre bebe fantasia Con design Impronte Coordinato Con l'asciugamano Guardate ci sono le improntine di animali Mi ripresi da qui Vado avanti Un piano Questo Piatto fondo Piatto piano Bicchiere Deposate Sempre per bimbi 7 di soriglie Per bambini Che è il gufetto 7 di asciugamani Jungle Che ora ve le cerco Perché non riesco a vedere Qual è E poi c'è Il completo letto Singolo Jungle Allora Questo è il completo letto Singolo Jungle Ah Eccoli Questo è il completo letto Singolo Jungle Per bimbi E sopra ci sono 7 di asciugamani Mettelo da bagno E l'asciugamano regolare Eccolo qua Non so se si vede Andiamo avanti E poi ci sono Per la cucina C'è un ceppo Più 5 coltelle 39 euro 7-5 coltelle Con impugnatura Lo vedete Simi in legno Sembra ci sia anche quello da formaggio Ti fa del dolore Ogni coltello Vedi Un coltello per ogni esigenza Poi abbiamo 7 di due padelle Diamito da 20 a 24 cm Adatti a tutti i tipi di fornelli Inclusi quelli a induzione 37 euro Il set 7 di padelle Una qui E questa Non so se si sono viste Però Poi c'è Il tagliere Che è questo Non so se si vede Eccolo Si non ci fate caso Ma c'è anche Vabbè Tagliere E poi c'è Il 10 euro e 50 E poi spargi pepe Macino pepe Praticamente 11,50 Anche questo Non mi chiedete Non lo so Se è il legno O simil legno Per insaporire Carne Pesce Tutto È il legno È il legno Vi dico Che è il legno Ora Giro Meno male È quasi finito Non mi caperate Perché Se no Spatola Il silicone Poi abbiamo Questo Che è Vedete Teglia Poi abbiamo La stringa Da cucina Che è questa qua 11,50 euro Per Spago Non lo so Per decorare Per farcire E poi Tovaglia Antimacchia Bella La tovaglia Antimacchia Voi che ne pensate Scrivete Qui sotto I vostri Commenti Andiamo Avanti Qui verrà Consegnato In una Di queste Versioni Una O due Ed è il cestino Per il pane Poi ci sono I bicchieri No 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 Sì Sette di bicchieri Purple A 29 euro Tovaglia Il mistolino Partiamo Questo Portapane In una Delle due Versioni Sette di bicchieri E la tovaglia E la tovaglia E poi Arriviamo Al passo Finale Con Contenitori Abbiamo Qui si Si vede Che valido La validità Diritto Di recesso Eccoci qua Set Di due Boccali Con Coperchio Perfetti Per i frullati Succhi Centrifughe Cocktail Eccetera 13 50 Z Eccoci qua E questo è finito Ciao a tutti Alla prossima Ciao a tutti